Grazie a Marco Orchieco, allora si è ripreso dall'emozione. Io ho un bellissimo intervento, volevo innanzitutto ringraziare chi ha voluto legare il nome di mio padre a questa manifestazione, quindi all'assessore Adriano Panatta, a Luca Bergamini e a Latigas. Siamo molto contenti come famiglia, principalmente perché mio padre negli ultimi anni di lavoro ha dedicato molto la sua attività professionale ai ragazzi e ai bambini. Quindi questa manifestazione, questo evento si lega benissimo con l'idea di mio padre. Concludo con una battuta che sapevo dell'amicizia di Adriano con mio padre. Non sapevo di tutti questi consigli che dava mio padre a Adriano. Io giocavo a tennis e se lo sapevo ti venivo a chiedere qualche consiglio. Questo che purtroppo sono stato indietro. Quindi questa... Non se ne è preso il video? No, va bene. Ok, però in privato ce la vediamo. E poi faccio... Se ne hanno mai dovuto andare o meno. Comunque concludo augurando a Luca che il futuro di questa manifestazione sia sempre più importante. Grazie. 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 Grazie a tutti.